Cos'è un cloud? Un cloud? Le fanno ridere in mezzo a strada, è cloud. Cloud non lo ricordo, ma credo di sapere che cos'è, ma non lo ricordo. Un iCloud è un telefono? Forse qualcosa di non veritiero, non ricordo. Qualcosa di non veritiero? Esatto. Un cloud sarebbe un indirizzo di collegamento a un accesso alla rete. Quindi cos'è un cloud? Qualcosa di non veritiero. Allora, cloud credo che sia una piattaforma musicale. Cos'è il cloud? No, il cloud non lo conosce. Non lo conosce. Allora, un cloud è un po' questo, non è necessario fare qua, se tutti i squadri. Ha tipo un calcione che tu, dopo ci sono niente qua. Meravigliosa. Penso che sia un archivio dove comunque vengono archiviati, un archivio dove vengono archiviati determinati documenti. Cos'è un cloud? Un cloud? Le fanno ridere in mezzo a strada, è cloud. No, giusto o no? Glielo spieghi bene. Un cloud sono i personaggi che fanno ridere in strada ragazzi, sono gli artisti di strada. Quindi noi i cloud ce li abbiamo in strada. Ma ce n'è un bel po' quest'anno i cloud, i pagliacci ce n'è un bel po', ma un bel po'. Cloud dall'inglese nuvola è sostanzialmente un archivio digitale in cui si possono salvare diversi file. Una raccomandazione ragazzi, fate bravi, giocate come una volta, lasciate starsi i maledetti telefoni, giocate come una volta ragazzi, biliardo, fate qualcosa di diverso, insegnate al prossimo. In percentuale noi, quanto siamo analfabeti digitali? Io penso al 99%. Poi magari c'è qua a scuola, qua a cattavaglia, a fare ricerca. Comunque non conta questo in una vita. Perché ciò che conta è? Il contatore A niente è su che fine ho vatti io E la mia casa è piazza grande